Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è giovedì 23 ottobre e vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise che titola con Biomasse in marcia per dire no. Cittadini, associazioni e sindaci dell'area hanno sfilato davanti a Palazzo Vitale. Oltre mille persone provenienti da tutta la regione hanno preso parte al corteo per fermare gli impianti del Matese. Abbiamo paura che oltre alle Biomasse vengano bruciate anche altri rifiuti. Dobbiamo difendere il territorio e le nostre aziende che qualora gli impianti venissero realizzati rischiano di perdere il marchio di qualità delle loro produzioni e anche la chiusura delle imprese. Attualità, Camere di Commercio a rischio chiusura. E poi Montaquila, Villa Flora chiusa a psichiatria, pazienti a rischio. Ancora la cronaca, nigeriano perde le staff e sequestra due dipendenti. Arrestato dai carabinieri, succede a Macchiagodena e il ragazzo era ospite in una struttura. Il giovane nigeriano ha chiuso due dipendenti in una stanza bloccando la porta con una scrivania. Bloccato ed arrestato dai carabinieri. E poi i palloncini bianchi e colombe per l'ultimo saluto a Leila. Ancora a Campobasso, rifiuti speciali e arriva il corpo forestale. Evasore totale, finisce nella rete della finanza. Per l'anno 2012 l'imprenditore non ha dichiarato nulla al fisco, omettendo di versare IVA e contributi di imposta. Scoperta un'evasione per 800 mila euro dalla Guardia di Finanza dopo approfondite indagini. E poi lo sport, Fazio e Di Gennaro trascinano il lupo nel pari rimonta con la Re Canatese. Sotto di due golle dopo il ventesimo, i rosso-blu reagiscono e sfiorano la vittoria. Altro pari in rimonta per i lupi, ma dal sapore diverso finisce 2-2 a Re Canati, dopo che i marchigiani si erano portati sul 2-0 in 18 minuti. Nella ripresa Fazio trova la bomba dai 20 metri, Di Gennaro raddoppia con un bel diagonale sotto misura. Campobasso più volte vicino al sorpasso con Todino e ancora con Di Gennaro. E ancora la serie di termoli per il dopo Cesare spunta Calarco, si tratta di una pista straniera. E poi carate Minotti Argento nel cumite mondiale in Polonia. Passiamo ora a primo piano Molise che titola con Dio struggente a Nicola, Leila e Maria. Ieri funerali delle tre vittime della Bifernina. Due ali di folla hanno accolto le bare sul sagrato della chiesa di San Pietro. Padre Giancarlo a Stefania durante l'omelia sono sicuro che anche Gesù piange con noi e accarezza il tuo volto. Lacrime e dolore ai funerali delle tre vittime della Bifernina, celebrati ieri pomeriggio dal vescovo Brigantini. Padre Giancarlo sceglie con cura le parole di conforto per Stefania, mamma di Leila, appena 17 mesi, moglie di Nicola, Daniele e figlia di Maria Perfetto. E ancora Boiano tragedia in Grecia, camionista stroncato da un infarto. Luigi Viele aveva solo 30 anni e a breve sarebbe diventato di nuovo papà. Città sotto shock per la morte di Luigi Viele, un autotrasportatore di 30 anni stroncato in Grecia da un infarto. E poi Zernia corse in ospedale ma è tutto inutile. Il bimbo nasce morto, ora la famiglia chiede l'apertura di un'inchiesta. Dramma per una trentenne di Castel di Sangro, incinta di otto mesi all'arrivo al Veneziale, il bimbo nasce morto. E poi la cronaca ancora aggredisce la compagna e poi si scaglia contro gli agenti. Arrestato al culmine dell'ennesima e violenta lite, la compagna terrorizzata chiama la polizia. Campobasso, gestione e smaltimento di rifiuti pericolosi, scattano i sigili della forestale. Sigili ad una ditta che gestiva e smaltiva rifiuti, anche pericolosi senza autorizzazioni. Macchia Godena, migrante, sequestra due operatrici e finisce in manette. Le rinchiude per ore in una stanza, rifiutandosi di farle uscire all'arrivo dei carabinieri da di matto. E poi le biomasse. Il popolo del Matese scende a valle, assedia il palazzo. Il presidente Frattura incontra i manifestanti e i sindaci della zona e rinnova l'impegno assunto. Entro il 5 novembre i permessi per le due centrali saranno revocati o annullati. E poi dall'Abruzzo, vasto, avanzi come pasti e violenze tra le mura domestiche, rumeno e in cella. E poi lo sport serie D, nuova rimonta dei lupi, anche con la Re Canatese recuperati due gol. Fazio e Di Gennaro assegno nel recupero, gradita visita di Matteo Monti sugli spalti. Nuova doppia rimonta del Campobasso, le reti di Fazio e Di Gennaro nella ripresa consentono ai Rosso-Blu di evitare la sconfitta nel recupero di Re Canati. Sugli spalti anche Monti. Crisi giallo-rossa, termoli, dubbi e incertezze tra voci e depistaggi, ora si parla pure di imprenditori stranieri. E poi dall'Abruzzo, Ciruli, nuovo presidente del Vasto Marina. Cambio al vertice, ma Travaglini resta. E controlliamo per primo piano Molise anche le pagine interne. Taglia le regioni, Renzi incontra i governatori nel summit, il punto sui 4 miliardi di risparmi. Petraroi ha disagi per i cittadini. E intanto Salvini attacca e Molise il personale costa 174 euro all'anno, in Lombardia 19, ma Palazzo Chigi colpisce tutti allo stesso modo. Formazione, pressing sull'assessore, bisogna agire con immediatezza. E ancora, disdetti gli accordi sui contratti della pubblica amministrazione, Will, sul piede di guerra. Boccardo, bisogna ridurre gli sprechi, non i diritti. UGL in piazza contro il Jobs Act, mette a rischio il futuro sabato la manifestazione a Roma. E poi le biomasse, assedio, sannita al Palazzo, via le biomasse dal Matese, corteo e presidio in regione, frattura entro il 5 novembre, revoca o annullamento. Sfilano cittadini e associazioni dal basso Molise in soccorso due buoi. Il governatore riceve gli amministratori, poi scende dai manifestanti. Il bilancio del sindaco ribelle, Carlone ci crede, impegnandosi il presidente, ha messo la parola a fine. E adesso guardiamo e leggiamo insieme la gazzetta del Molise, che titola Con il Molise si ribella ieri le biomasse, oggi lo zuccherificio, l'Oscar del giorno, i precari della protezione civile e il tapiro a Salvatore Ciocca. E anche per la gazzetta controlliamo le pagine interne, Candido, Paglione e l'esperienza della politica per tornare nel giro. Che l'ESU torni ad essere un ente efficiente e di reale sostegno alla popolazione universitaria, è un auspicio che supera a pie pari gli opportunismi del presidente Paglione. Abile nel mettere in risalto gli aspetti positivi della sua gestione, del feeling con il rettorato e nel non fare cenno alle difficoltà di dialogo con la giunta regionale. Eolico a Montecilfone, qui Sibara, Emilio Izzo torna a denunciare la questione e oggi terrà una conferenza stampa. E poi l'intervento sulla Bifernina, se invece delle parole ci fossero stati i fatti. A sedio alla regione, in mille marciano su Campobasso, manifestazione di protesta contro le biomasse nel Matese per chiedere l'annullamento delle autorizzazioni a costruire. L'intervento, caro Matese, attento ai padri distratti. Adesso guardiamo insieme il quotidiano online, informa Molise. Tra le notizie in primo piano. Venitelli essere renziani vuol dire proiettare il paese in Europa con una velocità 3.0. E ancora Terminus Formazione apre i corsi sicurezza sul lavoro. Bando Musicultura 2015, festival della canzone popolare d'autore, aperte le iscrizioni. Caro Matese, ti scrivo la lettera di Lega Ambiente. Turismo calano del 14,9% gli arrivi in Molise nel 2012. E ancora Agricoltura Sociale, Petra Royal Molise ha scelto di orientare il 70% dei fondi strutturali europei sull'agricoltura. Incidente a Campochiaro, ferito un cinquantenne. Poi lo sport termina 2 a 2 il recupero tra Re Canatese e Campobasso. La manifestazione di ieri, nobbiomasse, frattura, prende il formale impegno di revocare o annullare entro il 5 novembre 2014 le autorizzazioni. Passiamo ora alla stampa nazionale, leggiamo il Corriere della Sera. Attacco al Parlamento, terrore in Canada. Un commando spara e semina il panico. A Ottawa muoiono un soldato, un attentatore di origini algerine. Torna la paura anche a Gerusalemme. Auto investe e uccide una neonata. Il governo assalto non incidente. Minaccia globale, scontro a fuoco. Capitale blindata, chiuse le scuole. Le ambasciate scattano all'arma in America, preoccupazione di Obama. Difendersi da nemici senza volto. Gli scenari, il vicino degli Stati Uniti, una fabbrica di estremisti. E poi manovra così il bonus. Bebe, Renzi e l'Unione Europea voltare pagina. Le correzioni e il sì della ragioneria. Nuova protesta delle regioni. E poi Ragusa 2014. Schiave dei padroncini. Le braccianti romene nelle serre in Sicilia. Il sesso forzato, gli aborti. Anni di silenzio. Passiamo alla stampa. Legge di stabilità. Roma e Bruxelles cercano l'intesa verso un compromesso sul deficit. Le pensioni IMSS non slittano al 10. Il Consiglio Unione Europea affronta già oggi il nodo crescita. E poi Canada sotto attacco l'incubo dei lupi solitari. Ottavo assalto al Parlamento. L'attentatore è un convertito all'Islam. Passiamo al tempo. La capitale degli incidenti e il record di morti. Padre e figlio investiti da un romeno dopo la partita. Il dossier boom di sinistri causati da stranieri. L'intervento. Tifosi bellissimi per sempre nei nostri cuori. E poi ancora balle su balle. Così tramonta la trattativa. Stato mafia. Ultime rivelazioni. Attacco terroristico al Parlamento canadese. Due morti e tre feriti a Ottawa. E poi ancora il sondaggio di data media. Il Premier si rilancia. Il PD conquista due punti. Champions League scivola pure la Juve. Calcio italiano in crisi. Proteste a Fiumicino. Autobus, aeree e scuole. Scoppia la psicosi ebola. E ancora l'inchiesta del tempo. Ai non vedenti vietato anche il Campidoglio. Passiamo ora a tutto sport. Pazzesco. K.O. Della Juve ad Atene per 1-0. Stregata. I bianconeri staccano ancora in Champions. Deludente. Primo tempo. L'Olimpiakos colpisce con Casamine. La ripresa si gioca a una porta sola. Ma i campioni d'Italia mancano una serie incredibile di occasioni da gol. Colpendo pure una traversa con Morata. L'Atletico travolge il Malmo 5-0. Assegno anche Cerci. Girone sempre più complicato. E poi ancora Toro. Prenditi l'Europa con l'aiuto dei tifosi. Europa League con l'Helsinki Ventura carica. Non spreco energie per replicare a Moratti. A San Siro c'è Inter, Sant'Etienne, Furia, Mazzarri. E ancora le altre italiane. Il Napoli-Bissi in Svizzera, Viola in Grecia. Scoppia il caso. Verona, il comune, chiede danni alla Federcalcio. Curva chiusa per razzismo. E ancora mercato sempre caldo. Il Milan tratta Luca Silva e Vangioni. E poi ancora Garzia e Pallotta. Roma rialza subito la testa dopo lo shock con il Bayern. E questo era il nostro ultimo quotidiano. Vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per aver scelto la rassegna stampa di Molise TV. E buona giornata. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per giovedì 23 ottobre. Giornata di stampo quasi invernale rompe un nucleo freddo dai Balcani. Persisterà infatti l'azione di una circolazione instabile con una diffusa copertura nuvolosa e precipitazioni sparse. Nevose sull'Appennino dai 1200-1400 metri. Temperature insensibile diminuzione sia nei valori massimi che nei minimi. Venti forti settentrionali con mari fino a molto mossi o agitati. Campo basso minima 6, massima 10 gradi. Isernia minima 8, massima 11 gradi. Termoli minima 12, massima 14 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.